Ciao, benvenuti e bentornati a Cosa Beviamo Oggi. Siamo a Sabaudia, a Villa Luisa, la casa dei nostri amici Stefano e Paola. Ieri sera abbiamo aperto questo Trebbiano di Emilio Pepe, annato a 2012. È un vino che io ritengo tra i più importanti vini italiani, semplicemente perché Emilio Pepe da sempre, dal 1964, anno della sua prima vendemmia, ha sempre fatto il vino allo stesso modo e l'ha fatto anche in un periodo dove l'enologia e tutta la viticoltura andava veramente in un senso opposto. Oggi come oggi invece parlare di vini biologici, vini naturali, è cosa di tutti i giorni. Lui invece l'ha sempre fatto per capabilità e probabilmente proprio per l'indole. Andiamo a versarlo nel bicchiere. Questo noi lo abbiamo aperto ieri sera. E come vedete ha un colore giallo-oro molto carico, tendente anche all'ambrato. Allora, al naso la prima cosa che si ne dota, anche dopo circa 20 ore dall'apertura, ha una parte che ricorda molto il marzala. Il marzala è una versione secca. In questo caso non è un difetto perché fa parte dell'evoluzione del vino e soprattutto non inficia tutta la parte gustativa. È un aroma che noi ritroviamo al naso, ma poi non ritroveremo nella gustativa. E anche girando poi il vino nel bicchiere è una parte che viene via. I primi sentori che richiama questo vino sono sentori di etere. Ricorda lo smalto, ricorda un pochettino la triellina, anche l'acetone. Ovviamente parlo di note appena accennate e non sono odori pungenti. Poi iniziamo a ritrovare una parte fruttata. Parte la pera e anche l'arancia rossa. Continuando piano piano il vino ieri sera si è aperto, ha iniziato a mettere in evidenza altre note. Partendo dal miele d'acacia, anche la cera e poi pian piano, continuando ad evolvere e ad aprirsi, è arrivata anche una parte floreale e una parte erbacea, dove ricorda molto l'erba e il fieno secco. In bocca è un vino piuttosto pieno, ancora sorretto da una bella spallacida. Potrà tranquillamente evolvere ancora per diversi anni. In bocca troviamo invece che viene fuori, soprattutto adesso a 20 ore dall'apertura, anche una parte agrumata, con richiami che riguardano il limone e appunto l'arancia. È un vino particolare, a mio avviso anche negli abbinamenti. Ieri sera l'abbiamo accostato a diverse pietanze. Ci siamo trovati bene con una frittata e anche con dei frigitelli fatti in padella. È un vino che vedo bene anche con dei formaggi, di media stagionatura, non molto stagionato, eppure dei formaggi a pasta molle. È un vino che ritengo non sia adatto a un neofita. È un vino però importante. È un vino che secondo me è un passaggio fondamentale per chi vuole scoprire il mondo dei vini. Quindi passata una fase con i vini immediati che fanno solo acciaio per riconoscere gli aromi varietali di ogni vitigno, vi invito a assaggiare un terbiano di emidio pepe con qualche anno sulle spalle. Secondo me è un vino che andrebbe degustato prima di avvicinarsi ai macerati sulle bucce. Bene, se il video vi è piacito vi invito a mettere like e a iscrivervi al mio canale e come sempre alla salute.